Un posto al sole anticipazioni, puntate martedì 5 ottobre 2021. Fabrizio rischia di precipitare sempre più in un vortice autolesionistico. Intanto le persone che ruotano attorno a lui, dai dipendenti dell'azienda a Marina, finiscono di essere coinvolti, loro malgrado, nei problemi economici e personali dell'imprenditore. La Giordano è disposta e trova sostegno e conforto in Roberto. I due questa volta si ritrovano intimamente vicini. La passione riesploderà? E se sì qualcuno li becherà? Nico vive dei momenti di grande angoscia, iniziando a chiedersi se riuscirà mai a salvarsi dalla minaccia che incombe su di lui. Il ragazzo è molto spaventato, riuscirà a confidarsi con qualcuno? E soprattutto, chi lo sta mettendo alle strette? Intanto Ornella, sentendosi chiamata fortemente in causa, decide di dare un'importante lezione di vita a Patrizio. Il giovane riuscirà a cogliere il messaggio della madre? Il giovane riuscirà a cogliere il messaggio della madre?